Una delle situazioni più frustranti quando si ha a disposizione una Fire TV Stick come questa è ritrovarla improvvisamente bloccata sulla schermata di avvio di boot, una schermata come questa per capirsi. Si tratta di una situazione che mette molta ansia, preoccupazione, perché la Fire Stick sembra non rispondere più a nessun comando e soprattutto non volersi avviare per nessuna ragione. Allora se ti è già capitato una cosa di questo genere oppure vuoi sapere come affrontare questo problema mi raccomando non perderti questo video tutorial perché ti spiegherò alcune soluzioni che puoi adottare per sbloccare la tua Fire TV Stick ferma appunto su questo su questa schermata di boot. Prima di andare a vedere però quali sono i vari tipi di passaggi, di step che devi affrontare per sbloccare la tua Fire TV Stick, ti ricordo se non l'hai ancora fatto questo è il momento di iscriverti qui al mio canale, lasciare un like se troverai utile questo video e soprattutto attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi contenuti. Allora andiamo a vedere insieme quali sono le soluzioni possibili per sbloccare la Fire TV Stick da il boot loop continuo dal blocco sulla schermata di avvio che non consente il caricamento dell'interfaccia base appunto del dispositivo Amazon. Andiamo a vedere. Un primo motivo che può portare al blocco sul boot loop quindi sulla schermata di avvio della tua Fire TV Stick può essere legato ad un'elevata temperatura del dispositivo per cui un primo suggerimento che ti do è quello di scollegare la Fire TV Stick dal tuo televisore e permettergli di raffreddarsi questo significa scollegarla anche da eventuali accessori come cavettini OTG che ti possono permettere di collegarci altre periferiche e far trascorrere almeno cinque minuti in modo che la tua Fire Stick ritorni alla temperatura ideale che gli consentirà un regolare avvio. Un secondo modo per sbloccare la tua Fire TV Stick dal boot di avvio è legato all'alimentazione. Sì sicuramente ti sarai accorto che è possibile collegare l'alimentazione della Fire Stick direttamente tramite il cavo usb alla presa usb del tuo televisore. Sì perché oramai le smart tv di ultima generazione hanno non solamente una porta o più porte hdmi ma anche prese usb. Purtroppo questo può causare problemi alla Fire TV Stick che ha necessità di una quantità ben stabilita di corrente per funzionare e soprattutto per esempio per aggiornarsi se tu l'avessi collegata tramite il cavo usb non gli consentirà di avere la corrente che gli necessita ma non solo a volte può capitare che venga collegata non con il suo alimentatore in dotazione ma tramite uno di quelli che magari ti ritrovi in casa per cui la prima cosa da fare è quella di scollegare la presa usb dal tuo smart tv e connettere la sua la sua alimentazione di corredo che trovi all'interno della sua confezione. Solo la giusta quantità di corrente permette un corretto funzionamento del dispositivo Amazon. Terzo motivo che avrebbe potuto portare al blocco in boot loop della tua Fire TV Stick può essere legato alla presa hdmi. sulla quale l'hai collegata la presa hdmi del tuo televisore potrebbe avere qualche problema ed è per questo che ti consiglio un altro modo per cercare di evitare e sbloccare la situazione di blocco alla schermata di avvio ovvero quello di scambiare la presa hdmi su cui avevi collegato la tua Fire TV Stick su di un'altra quindi se ti renderai conto che la Fire TV Stick ha una temperatura elevata ovviamente vale il passo che ti ho detto poco fa quindi lascia che si riaffreddi dopodiché collegala ad un'altra presa hdmi e ti dirò di più nella confezione della Fire TV Stick solitamente è presente un adattatore ovvero questo lo faccio vedere che ti consente di avere una presa in ingresso hdmi e una presa femmina hdmi dove puoi collegare la Fire TV Stick questo consente di tenere lontano il dispositivo amazon dalla scocca del tuo televisore e in questo modo quindi potrai ottenere più praticità nella connessione perché hai un cavettino morbido che ti consente più agio all'interno di a volte spazi angusti e ovviamente un controllo maggiore della temperatura un altro modo per sbloccare la tua Fire TV Stick ferma al boot di avvio è quello di lasciare collegata ed accesa la tua Fire TV Stick per più ore continuative questo strida un pochino con quello che abbiamo detto fino a ora cioè sul controllo della temperatura della Fire TV Stick che soffre un pochino le alte temperature ma a volte consente a Fire OS che è il sistema operativo del dispositivo amazon di riuscire a lavorare ed elaborare quelle che sono le app che deve aprire per poter avviare la schermata iniziale che a volte potrebbero fare dei capricci soprattutto in quei casi in cui si è installata un'applicazione di terze parti che a noi fa molto comodo ma che non è completamente compatibile con la Fire TV Stick mi è capitato a volte di lasciarla connessa tutta la notte quindi diverse ore e l'indomani mattina vedere che era riuscita a riavviarsi correttamente in quel caso vi suggerisco anche di andare a controllare quali sono le app che avete installato per ultime prima di quel problema di blocco di cui stiamo parlando ed eventualmente eliminare disinstallare proprio una delle ultime app che avete installato che forse è la causa di questo blocco altro suggerimento per sbloccare la Fire TV Stick ferma su boot di avvio è quella di effettuare un ripristino all'impostazione di fabbrica ma non tramite il sistema operativo quindi non tramite la funzione presente nella sezione impostazioni proprio perché stiamo parlando di un dispositivo bloccato ma avvalendosi del telecomando in dotazione è vero che si può infatti attivare la modalità ripristino l'impostazione di fabbrica con una combinazione di tasti sul telecomando qual è questa combinazione vi basterà tenere premuto sulla ghiera che vedete qua nella parte centrale la porzione a destra insieme contemporaneamente al tasto indietro per 10 secondi e vedrete che sullo schermo dovrebbe comparire la funzione con un countdown di ripristino alle impostazioni di fabbrica lasciate quindi che avvenga la procedura e all'avvenuto ripristino la Fire TV Stick dovrebbe riprendersi e quindi continuare a funzionare correttamente. Un ultimo modo per sbloccare la Fire Stick dal boot loop di avvio è sicuramente quello di contattare l'assistenza tecnica di Amazon perché non solo potete indicare di quelli che sono stati i vostri problemi ma la stessa a volte è capitato abbia suggerito la possibilità di sostituire direttamente il dispositivo soprattutto in quei casi in cui è ancora in garanzia ovviamente se si tratta di una Fire Stick che avete da tantissimi anni perché ci sono già diverse generazioni oramai su questo dispositivo che ha avuto così tanto successo ma soprattutto sui prodotti nuovi ancora in garanzia potete avvalervi di questa opzione. Direi che per questo video è tutto spero che vi sia stato di aiuto sia così naturalmente iscrivetevi al canale lasciate un like e attivate la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi contenuti. Andrea Meni alias dot zivago vi saluta e vi rimanda al prossimo video. Ciao a presto!